Ciao ragazzi, forse non ci conosciamo, io sono Mario, il vostro umile trainer di quartiere. Come dici? Sì, 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 me la sono proprio studiata questa introduzione, ma lasciamo perdere. Ok, quindi oggi vediamo 4 esercizi per allenare l'interno coscia. E non è solo un muscolo per le donne, anzi, ti assicuro che tra i miei preferiti, oltre che si intangono un sacco di benefici e si levano tanti infortuni, ma vabbè, se no sono troppo lungo, come al solito. Ok, prima di andare avanti negli esercizi, ti lascio qualche piccola info per conoscere il coach, dove contattarmi per avere altri riferimenti, dopodiché guarda bene gli esercizi e alla fine non andare di fretta, c'è un pensiero o una riflessione per te. Cosa devi fare? Se ti piace il coach, lascia un bel pollice in su o iscriviti al canale. Noi ci vediamo alla prossima e allenati bene. Ciao! E per essere qui ragazzi, queste sono delle piccole info per conoscere meglio il coach. Questo è il mio sito, dove all'interno di questo sito troverai un blog, troverai ricette, troverai video, troverai schede allenamento, troverai tutorial, tutto questo completamente gratuito. Troverai all'interno nutricionista, terapista, farmacista, il coach, anche questo tutto completamente gratuito. Prenotare oppure abbonarti, tutto questo completamente gratuito. Ci sono lezioni base, così come pacchetti un po' avanzati. Oppure tutto questo lo puoi fare con la mia app, ancora meglio, tutto comodamente da un'app, quindi da qui non ti potrà sfuggire mai nulla. E se proprio ti vuoi aggiungere, se sei un telegrammaro, questo è il mio canale. Telegramma, ti ringrazio di essere passato da qui e mi raccomando, continua ad allenarti. Ciao! Telegramma, ti ringrazio di essere passato da qui e mi raccomando. Grazie a tutti!